Ma ci voleva uno stregone per non perdere la testa nelle gallerie e guidarli nella direzione giusta. «Hanno fatto quella porta tanto tempo fa», disse. «In parte come uscita di sicurezza, se mai ne avessero avuto bisogno, in parte come sbocco sulle terre che si trovano al di qua delle montagne e dove essi scendono ancora al calarde nel tenebre facendo gravi danni. La sorvegliano sempre e nessuno è mai riuscito a bloccarla. «Ah, una cosa è certa. D'ora in poi la sorveglieranno il doppio». Tutti gli altri risero con lui. In fondo avevano subito delle perdite, ma avevano ucciso il grande orco e moltissimi altri come lui ed erano scampati tutti, sicché tutto sommato si poteva dire che finora tutto era andato per il meglio. Ma lo stregone gli richiamò alla realtà. «Dobbiamo rimetterci in cammino subito, adesso che ci siamo riposati un po', disse. «Appena fa notte usciranno a centinaia per darci la caccia e le ombre si stanno già allungando. Possono fiutare le nostre impronte ore e ore dopo che siamo passati. Dobbiamo essere a miglia di distanza prima del crepuscolo. E stanotte ci sarà un po' di luna se il cielo rimane sereno. E questa è una fortuna. Non che a loro importi molto della luna, ma noi avremo almeno un po' di luce per dirigere i nostri passi». «Ah, sì, Bilbo, hai perso il senso del tempo dentro le gallerie degli orchi. Oggi è giovedì ed era lunedì, quando siamo entrati. Abbiamo percorso miglia e miglia e siamo scesi proprio attraverso il cuore delle montagne. Ora ci troviamo sull'altro versante, una bella scorciatoia. Ma non siamo dove ci avrebbe portato il nostro passo. Siamo troppo a nord. Strane contrade si estendono davanti a noi e siamo ancora molto in alto. Su, andiamo! «Ma io ho una fame spaventosa!» Si lamentò Bilbo, che all'improvviso si era reso conto di non aver mangiato niente dalla notte precedente. Pensate un po' come potesse sentirsi uno Hobbit. Adesso che l'eccitazione era passata, aveva lo stomaco vuoto e sottosopra e le gambe tutte molli. «Non posso farci niente», disse Gandalf. «A meno che tu non voglia tornare indietro e chiedere educatamente agli orchi di ridarti il tuo pony e le tue scorte...» «Eh, no, grazie», disse Bilbo. «Benissimo, allora dobbiamo solo stringere la cinghia e metterci in cammino. O saremo mangiati per cena da qualcun altro». Mentre avanzavano, Bilbo guardava di qua e di là in cerca di qualcosa da mangiare, ma le more erano ancora in fiore e ovviamente non c'erano nocciole e neanche una bacca qualsiasi. Mangiocchiò un po' di acetosella e beve l'acqua di un torrentello che attraversava il sentiero. E sulle sponde trovò due fragole selvatiche, ma non erano certo un granché. Continuarono ad avanzare. Il sentiero sconnesso sparì. I cespugli e i lunghi fili d'erba tra i massi, le macchie di trifoglio bruciato dai conigli, il timo, la salvia, la maggiorana e le gialle rose di roccia. Tutto svanì. E si trovarono in cima a un vasto ripido pendio di pietre ammucchiate, residui di una frana. Quando cominciarono a scendere, terriccio e pietrame rotolarono in basso sotto i loro piedi. Ben presto frammenti di pietra più grossi cominciarono a precipitare a balle rumorosamente, facendo a loro volta cadere e rotolare le pietre sottostanti. Poi toccò a grossi blocchi di roccia che, smossi dalla base, andarono a infrangersi sul fondo sollevando polvere e fragore. Di lì a poco, tutto il pendio sopra di loro parve muoversi. Ed essi scivolarono via, stretti tutti insieme, in una paurosa confusione di lastroni e pietre che scivolavano, rimbalzavano e si infrangevano. A salvarli furono gli alberi sul fondo. Essi scivolarono oltre il margine di un bosco. Alcuni afferrarono i tronchi e con volteggio saltarono sui rami più bassi. Altri, come il piccolo hobbit, si misero dietro un albero per ripararsi dall'assalto furioso delle pietre. Presto il pericolo passò. La frana finì e si poterono udire gli ultimi deboli slittamenti, mentre le pietre più grosse andavano rimbalzando e rotolando lontano, tra le radici dei pini e le felci. Bene, questo ci ha fatto fare un bel passo avanti, disse Gandalf, e perfino gli orchi sulle nostre tracce avranno il loro da fare a scendere da qui senza far chiasso. Oso dire, brontolò Bombur, che non sarà difficile per loro far russolare le pietre sulle nostre teste. I nani e Bilbo, lungi dall'essere felici, erano intenti a pulire le escoriazioni e i graffi sulle gambe e sui piedi malconci. Sciocchezze! Adesso gireremo di qua, fuori tiro, lontano dalla frana. Guardate la luce. Il sole era calato da un pezzo dietro le montagne. Le ombre si erano già infittite attorno a loro, sebbene in lontananza attraverso gli alberi e sopra le cime nere di quelli che crescevano più in basso. Potessero ancora vedere la luce della sera nelle pianure sottostanti. Avanzarono dunque zoppicando, il più velocemente possibile giù per i lievi, pendii di un bosco di pini fino a un sentiero in discesa che portava decisamente a sud. A tratti si aprivano la strada in un mare di felci dalle alte foglie, che si innalzavano dritte sopra la testa dello hobbit. A tratti marciavano silenziosamente, per quanto è possibile fare su un tappeto di aghi di pino. E per tutto quel tempo l'oscurità della foresta divenne più pesante e il silenzio più profondo. Non c'era vento quella sera, a portare nemmeno un sospiro di mare tra quegli alberi. «Dobbiamo andare ancora avanti?» domandò Bilbo, quando fu così buio che poteva vedere solo la barba di Thorin fluttuare accanto a lui. E la quiete era tale che persino il respiro dei nani gli pareva un forte rumore. «Ho i piedi azzoppati e dolensiti. Male alle gambe e ho lo stomaco che mi balla come un sacco vuoto». «Un po' più avanti», disse Gandalf. «Dopo quella che sembrò un'eternità, arrivarono improvvisamente a uno spiazzo dove non cresceva nessun albero. La luna si era levata e brillava sulla radura. Ebbero tutti la strana sensazione che non fosse affatto un bel posto, anche se a prima vista non c'era niente che non andava. A un tratto udirono un ululato. Più in basso sotto la collina, un ululato lungo e raccapricciante. Un altro rispose alla loro destra e molto più vicino, poi un altro non lontano sulla sinistra. Erano lupi che ululavano alla luna, lupi che si riunivano tutti insieme. Nel paese del signor Baggins non c'erano lupi vicino al suo buco, ma il piccolo Hobbit conosceva quel verso. Gli era stato descritto abbastanza spesso in vari racconti. Addirittura uno dei suoi cugini più anziani, di parte Tuck, che era stato un grande viaggiatore, era solito rifare quel verso per spaventarlo. Udirlo all'aperto, in mezzo alla foresta, sotto la luna, fu troppo per Bilbo. Nemmeno gli anelli magici servono a molto contro i lupi, specie contro quei branchi malvagi che vivevano all'ombra delle montagne infestate dagli orchi, sul confine delle terre selvagge ai limiti dell'ignoto. I lupi, di tal fatta, hanno un odorato più fino degli orchi e non hanno bisogno di vedervi per prendervi. «Che facciamo? Che facciamo?» gridò. «Sfuggire agli orchi per essere presi dai lupi!» disse. E l'espressione divenne proverbiale. Perché, come si dice in questi casi, siamo finiti dalla padella. Alla brace!